Stangata da 72 milioni di euro per gli italiani che questo Natale si metteranno in viaggio. A fare i conti è il Codacons, commentando i prezzi dei carburanti in rialzo alla vigilia delle partenze. Ormai gli automobilisti italiani, spiega il presidente Carlo Rienzi, sono abituati all'aumento dei prezzi dei carburanti in occasione delle feste, circostanza che si verifica con incredibile puntualità ogni anno. Il consiglio che rivolgiamo alle famiglie è quello di scegliere con attenzione il distributore più conveniente, prediligendo le pompe bianche e gli impianti self-service, perché così è possibile risparmiare fino a 10 centesimi di euro al litro.